Buonasera, io mi chiamo Anna di Trani e faccio parte dello staff della scuola di canto lirico Lina e Cavalieri di San Positonio. Abbiamo con noi questa sera il professore Luigi Esposito, quindi professore, artista e guetta anche. Mi diverto a fare delle poesie, ho un'obiettivo a pubblicazioni. Cosa l'ha portato qua questa sera a Mosella del Mare? Sì, sono prima di tutto un abituale dell'Isola, abbiamo qui ormai le radici, è quasi 50 anni che frequento l'Isola. Sono amico di Rino Lauro, di Luciano di Meglio, mi ha sempre appassionato il Museo del Mare. Proprio questa mattina quando ho telefonato a Rino perché volevo fare una sorpresa, ho telefonato una brochure dove ci sono delle poesie fatte da me e da mio padre, tutte sul Museo del Mare. L'ultima mia pubblicazione, che sarà qualche mese fa, è basata proprio in un capitolo sul Museo del Mare, su quello che c'è. E quindi ho fatto alcune poesie, che sono poi state riportate sulla brochure che io ho donato agli amici del Museo del Mare. Quindi abbiamo anche l'onore di poter leggere la sua poesia? Se vuole, sì, sicuramente. Bene, allora io la ringrazio e dopo la scoppiamo volentieri. Va bene, sarà un mio piacere.